salve a tutti amici e bentornati sul mio canale io sono grace continuiamo la nostra avventura con il gioco di fallout 4 alla ricerca delle ultime statuine allora amici io mi trovo esattamente qua galleria pickman questo punto qui come indicazioni potete abbiamo siamo sul lato sinistro del quartier generale dei reload almeno qua ok perfetto allora vediamo innanzitutto con che armi andare a equipaggiarci qui potrebbe andar bene visto che abbiamo tante celle 4868 che perfetto entriamo qua e vediamo un po da adesso c'è anche qui una statuina che non abbiamo ancora raccattato ok beh sparo un po sparo l'ho attrezzato gli ho messo un caschetto un mirino cioè non un mirino un caschetto ok così è un po più cazzuta diciamo così allora scendiamo il nostro lampione non capisco perché stia laggando però proseguiamo eh allora vediamo un po non cominciare quello che non puoi finire vediamo un po cartuccia per fucile a pompa messaggio per jack allora andiamo a sentire subito il messaggio per jack dunque ehm pari ok andiamo a vedere se è sotto lo nastro oppure se è sotto messaggio vediamo un po eh messaggio per jack set sono io ho scoperto che fine hanno fatto i ricognitori scomparsi alla vecchia galleria d'arte sono tutti morti set davanti a me c'è un quadro fatto con il corpo di kyle ah sono fissati eh migliato viso di pikman completo da strada anche no sono fissati i costimini eh dov'è calchetti ah andrà che cazzo è dai forza ma non avvicinarti psicopatico sì perfetto proprio l'espressione che cercavo ok allora dobbiamo seccare questi qua perchè sinceramente mi stanno rompendo un po' le scatole tra loro le loro bombe che ci lanciano giù ok e uno è andato andiamo a perquisire questi cadaveri qua allora braccio sinistra munizioni le raccattiamo poi cartucce ok vediamo un po' eh munizioni e questo anche no poi vediamo un po' qua un petropedone questa è la porta che dà sulla stanza che eravamo prima però la scassiniamo lo stesso così ci da un po' di esperienza ehm veleno per topi altre cose interessanti colonna vertebrale anche no stimpac purificata allora qui altro non vedo di interessante attacca di sangue ok ehm dunque munizioni e nient'altro non vedo nulla da raccattare non vedo nulla da raccattare ok proseguiamo ma ancora non li ha ancora uccisi da mezz'ora che è lì che sta sparando eh ok è uno andato ehm munizioni munizioni in tappo ok ok allora finiamo di perquisire sacca di sangue vuota munizioni in forzione ok allora finiamo di perquisire bene qua vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante mi sembra di no mi sembra di no credono li abbiamo già controllato allora c'è il nostro americano martello punta tonda anche no porta ardua ok 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 ottimo ottimo allora di qua si va giù e invece di là si va su allora facciamo così perquisiamo prima il piano di sopra oh i piani di sopra qua c'è un cane non lo sa niente qua nulla qua si e' bello resistente eh infatti che questo fucile qui fa un po' schifio eh ok allora tappo munizione steampack non resta un pega niente occhiali alla moda direi anche no altre cose interessanti non ce n'è qua dentro allora noi siamo venuti da lì tappo eh chiaro combinata getta visita di equipment qua nulla calza maglia integrale anche no qua qua nulla biglietto a visita di pickman vabbè prendiamo c'è un piano di biglietti a visita di pickman munizioni in graccacchiamole carcassa toracica anche no ah questa è una trappola che è attivata da qua naturalmente ha seccato il cane se allora quindi il piano superiore non c'è più nient'altro c'è l'altro piano di là su e poi ci manca il piano sotto allora calibro 50 munizioni anche no allora tappo munizioni yes magari una cassaforte nascosta o qualcosa del genere bene tappo per le tue 50 nulla abbiamo giocato e lo raccattiamo tappo munizioni braccio destro un cucchiaino anche no tutto sporca allora lì c'è quel passaggio lì tappo tappo fiotto qua niente dunque noi siamo venuti da qua dalle scale allora finiamo qua e poi passiamo nel pertugio lì in mezzo alla parete allora qui c'è un banco da lavoro qui c'è un banco da lavoro ok ventilatore non ci serve lancia missili un ottimo direi passettone niente inizioni qua perfetto allora direi ragazzi di provare a insinuarci in mezzo al muro qua quindi passare di qui e vedere un po cosa c'è se c'è qualcosa di interessante allora volevo provare a saltar di là magari c'è qualcosa di nascosto scatola di tappi ok allora vediamo proseguiamo e scendiamo giù ok sempre stando sempre stando attento a non spaccarci le ossa allora questo ok se puoi scendere di lì mi da due nemici sulla mappa quindi non li andiamo a trovare pala anche no ok andate anche loro vediamo cos'è che avevano l'interessante questo munizioni 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 stimpact tappo ok questo è uno poi l'altro aveva munizioni munizioni e tappi ok allora qui mi sembra che non c'era niente vediamo di qua tappo cartucce fio munizioni munizioni fucile da combattimento ok altrimenti l'interessante ma il resto c'è che niente ok questa mina sinceramente non l'avevo vista per fortuna che l'abbiamo evitate l'atto di vermice rossa no perfetto possiamo scendere stiamo sempre attenti che qua mi sa che c'è pieno di mine si può scendere il succhio sangue tappo aspetta la strada anche no questo pikman che ha lasciato biglietti da visita a tutti i cadaveri che troviamo in giro ok va bene proseguiamo insinuiamoci dai ok anche quello è andato allora vediamo un po' c'è qualcosa di interessante eh munizioni e nient'altro vediamo qua nulla un triciclo ma non ci serve munizioni allora c'è una strada di lì poi c'è c'è di qua anche di qua non ci fa passare però niente andiamo a vedere di qua nulla ehm ed è chiusa quindi ok abbiamo solo questa possibilità qua di andare a insinuarci qui scoprite scoprite dove è sistemata la cosa quindi dobbiamo stare attenti dobbiamo spaccarci qualcosa quindi direi di provare magari a saltare la ok ottimo ehm stessiamo di qua infatti lei si è spaccata qualcosa stacca di sigarette ok in giù dunque sento parlare quindi ci saranno altri rompiscatole ma ci stanno contaminando le radiazioni una fotografica ehm si attraversa attraversiamo allora vediamo il cadavere cartucce munizioni e ok ok allora possiamo andare di lì andare di lì attraversare qua sul ponticello oppure possiamo proseguire nell'acqua vediamo un po' se di qua c'è qualche altra strada no allora il cadavere era qua vediamo un po' eh fu munizioni munizioni e nient'altro ok quindi dobbiamo decidere se andare di qua o andare giù iniziamo da di qua ok meno male che l'abbiamo seccato subito anche quello quindi si possiamo scendere tanto c'è la scaletta lì qua niente allora vediamo un po' cartucce del fucile a pompa munizioni tappi c'è la doppia canna glielo lasciamo vediamo un po' di qua cuscino a comodo provetta niente cos'è stato? ah una cassaforte ragazzi base andiamo alla scassinare lo stesso così ci da un po' più di punti esperienza tanto le forcine non ci mancano di sicuro ok molotov coltello d'argento libro non consegnato mentos mina fermentazione munizioni tappi ottimo farei anche un salvataggio ragazzi che cosa buona e giusta secondo te cos'è ok dunque noi siamo venuti da la dov'è che a chi è che stai sparando che non vedo nessuno mi è da di sopra i nemici proseguiamo ok allora di qua niente andiamo di qua siamo sempre attenti eccole qua un'altra mina meno male che l'ho vista questa volta cattola di tappi ottimo allora noi siamo venuti da giù vabbè andiamo avanti poi andiamo a prendere di sicuro utilizziamo anche un bel acqua purificata si che l'abbiamo da usare allora uno e due ok vediamo cos'è che aveva questo munizioni munizioni steampack ok tutto tutto munizioni adesso anche no un attimo volevo rivedere questo niente ok allora vediamo un po' dobbiamo proseguire di qua mi sa che quello la si era zoppato da solo perché aveva beccato mi sa qualche mina nascosta nascosta deve esserci qualcosa di importante ok vediamo un po' munizioni prendiamo andiamo 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 stammica di antigelo stammica di antigelo stiamo attenti a evitare qualche mina oggetto pacchetto di sigarette andiamo avanti finalmente sei mio pigman pensavi di poter dare la caccia e torturare i nostri uomini per divertire andiamo un attimo andiamo con ok ok allora settiamo questi ok uno è andato anche quello è andato ci manca questo qua ottimo direi tu hai un secondo per me no adesso no eh dopo allora controlliamo bene qua vediamo eh patucce no le saloppetta le munizioni che c'erano ok ok pennello anche no e qua c'è la statuetta ragazzi allora allora aspettate che prima volevo prequisire questo altro cadavere qui allora fucile d'assalto lo prendiamo perché vale qualcosina munizioni 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 ok qua munizioni psycho tappo toraccia toraccia anche no toraccia anche no e questo anche no un succhiotto qua nulla allora raccattiamo la statuina ok allora amici mappa ci troviamo esattamente alla galleria galleria piccman faccio vedere nella mappa indicativamente siamo a sinistra del quartiere generale dei reload come potete vedere la statuetta è statuetta scassinare spazzati sempre per raggiungere l'irraggiungibile scassinare è più facile ottimo dire anche questa l'abbiamo raccattata proviamo col tipo erano assassini perché ti volevano morto ho un piccolo disaccordo non apprezzavano il mio hobby collezionare le loro teste lascia che ti ripaghi che cosa hai in mente? un dono niente più se passerai di nuovo da casa mia cerca nel mio dipinto picnic per stelle e troverai un segno della mia gratitudine ti servirà questa ok abbiamo la chiave di picman quindi dobbiamo andare a vedere a casa sua che dono è ho visto Valterterra mi sembra perfetto infatti anche un fumetto ho trovato uno ottieni più 5 resistenza al veleno ok quindi andiamo a casa picman e andiamo a vedere qual è il suo dono già che siamo qua andiamo 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 ok ok allora vediamo un po' dov'è che sarebbe sto dunque ah recupero il dono quindi siamo subito qua qua non c'è nulla altri quadri non c'è nulla stiamo su e vediamo qual è il suo dono allora me lo dà di là esattamente là ok quindi dobbiamo uscire cercando di non romperci magari qualcosa ok allora direi che qua non possiamo entrare facciamo un giro ecco ci mancavano pure i ghoul ok ok proprio fastidiosi questi qua eh come le zanzare su piassangue che abbiamo beccato in giro ok neanche quello è andato ehm acqua ok in plastica anche no tappo cubo di legno munizione orologio d'oro sì allora passiamo da qua vediamo un po' eh se riusciamo a raggiungere di qua l'obiettivo oppure dobbiamo per forza fare il giro nel cimitero come al solito siamo così tanto fortunati che già a girare il cimitero non c'è gli storie niente siamo di qua ok quindi era galleria pikman e se anche casa su allora perché c'è dato le cavi di casa sua aveva detto ok mettiamo via l'arma che tanto qua li abbiamo seccati tutti cassaforte allora lama di pikman versare di sanguino subendo 25 danni aggiuntivi munizioni munizioni il ringraziamento di pikman e questi non ci interessano allora vediamo un po il messaggio con ringraziamenti di pikman dati materiali 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 no non è materiali e varie ringraziamenti di pikman grazie assassino va va bene ok anche questo l'abbiamo fatto abbiamo recuperato la statuetta abbiamo recuperato un fumetto ok va bene amici io direi che il nostro episodio termina qui spero che la nostra avventura vi stia piacendo e per caso se non siete iscritti al canale iscrivetevi se vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like ringrazio per avermi seguito ci vediamo con il prossimo gameplay un saluto a ti da grace gamer saventi ehi